La fase centrale del 2023 rende Pesaro sempre più città-cantiere. In particolare, ruspe e ponteggi diventeranno dominanti nel triangolo di poche centinaia di metri, compresi fra il Cavalcaferrovia, la Stazione Ferroviaria e Via dell'Acquedotto, per una serie di cantieri ravvicinati e concomitanti che il Comune di Pesaro ha voluto annunciare oggi avvertendo la cittadinanza anche per gli inevitabili disagi alla viabilità. 20 milioni di lavori che partiranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tutti concentrati intorno all'area tra la stazione e il Cavalcaferrovia. In particolar modo la nuova stazione, la riqualificazione della stazione esistente, 8 milioni di euro, il rifacimento del Cavalcaferrovia, 3 milioni di euro, il sottopasso dei cappuccini, altri 800 mila euro, e poi il ponte ciclopedonale che collegherà Tombaccia con la stazione Via dell'Acquedotto. Tanti lavori in quella zona, sia di parcheggi sia di strutture sociali, quindi davvero un investimento molto importante. Ovviamente quando iniziano i lavori ci sono anche dei disagi, chiediamo pazienza ai cittadini. 20 milioni di euro la stragrande maggioranza dei quali di provenienza extracomunale. Il finanziamento più consistente sono gli 8 milioni di RFI destinati alla riqualificazione della stazione ferroviaria che partirà fra fine maggio e inizio giugno. Sempre con fondi RFI si procederà all'acquisto e realizzazione del nuovo Bike Hub per 800 mila euro e 600 mila per l'acquisto dell'area Exmetro Park. Un altro milione di euro di fondi comunali andrà alla riqualificazione del parcheggio a sud della stazione. 140 mila euro sono destinati alla realizzazione del deposito biciclette che partirà a giugno, mentre nella stessa area a inizio 2024 si realizzerà la stazione di posta housing sociale con 900 mila euro di fondi PNRR. Spostandosi in via dell'Acquedotto fra maggio e giugno arriverà il varo del ponte ciclopedonale sul Foglia per un lavoro da 3 milioni e 800 mila euro ai quali si affiancano 320 mila euro per la riqualificazione del teatro della piccola ribalta. Lavori che partiranno e lavori che sono già quotidianità di questa settimana. È infatti partita la complessa demolizione e riqualificazione del sottopasso dei cappuccini che si concluderà a marzo. Riparti invece domani l'ultimo straccio di lavori al cavalcaferrovia De Sabata. Partirà proprio domani un cantiere da 3 milioni di euro che in qualche modo andrà a portare anche qualche modifica sulle viabilità così come è stato annunciato e che però non andrà mai a modificare quelle che sono la percorribilità di quel tratto di strada in entrambi i sensi di marcia. Una dozzina di cantieri con un occhio a Pesaro capitale della cultura 2024. Abbiamo chiesto nella gestione dei cantieri qualità nelle impalcature, nella cartellonistica, abbiamo chiesto anche di apporre laddove possibile il brand della capitale della cultura perché è anche un modo per dimostrare che la capitale della cultura sta dentro questa trasformazione che Pesaro sta avendo e che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà sempre più evidente.